Ciao a tutti ragazzi, oggi sto facendo un video tanto per farlo, perché qualcosa devo pur fare io sono da sola a casa, ho una pelosa lì che magari adesso vi faccio vedere adesso è molto comoda, ve la faccio vedere magari dopo a fine video e qualcosa devo pur fare, io tutto il giorno non parlo con nessuno sì qualche vocale su whatsapp, però io fondamentalmente sono da sola a casa anche se mi metto nei panni di chi sta in casa con qualcuno penso che comunque stare H24 o comunque molto tempo in casa senza poter uscire o senza perlomeno degli sfoghi particolari, possa mettere a dura prova qualsiasi relazione quindi forse devo ritenermi profortunata perché in casa non ho nessuno insomma non è proprio bellissimo anche perché io e mia mamma a Bologna e mio fratello vivono tutti e due, mio fratello un po' meno, ma mia mamma è distante rispetto a me e io non posso andare da lei perché ovviamente se non c'è una reale necessità non posso andare e quindi io tutto il giorno sono da sola a casa quindi oggi vi beccate questo video così veramente ad cazzum non so, ho raccolto diciamo due o tre chiacchiere da fare ho detto vabbè accendo la videocamera e via non ne ho avuto neanche voglia di mettere lo sfondo tra l'altro mi fa le sopracciglia sta luce oggi così guardate vedete così si vede il colore reale se tolgo la mano sembrano chiare vabbè, chi se ne frega allora volevo farvi vedere alcune cose che mi sono arrivate alcune le ho comprate io e vi faccio vedere vi avevo già anticipato la mia diciamo uno dei modi con cui sto cercando di impegnare il tempo ovvero quello di colorare perché mi rilassa tantissimo anzi, proprio mi prende tanto 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 cioè una droga quasi allora stavo tanto colorando questo che è l'unica cosa che avevo in casa vi faccio vedere allora, questo è il primo che vi faccio vedere ho sbagliato perché ho usato il colore al contatto al contrario vabbè, praticamente al posto delle più chiare ci sono le più scure e viceversa comunque questo, però vabbè, è molto carino lo stesso dai questo è il primo che ho colorato ma quello che mi è piaciuto di più vabbè, è anche un quadro stupendo sono tutte opere d'arte da colorare ci sono dei numerini con dei circoletti voi scegliete il colore e poi li colorate tutti ma guardate che bello questo cioè, ditemi se non è stupendo troppo bello purtroppo avevo pochissimi colori a disposizione perché io avevo in casa solo questi in realtà io mi ricordo se non sbaglio io avevo anche dei colori a matita facevano un po' schifo però erano molti più colori l'unico che sono riuscita a trovare erano questi della Stabido che però devo dire sono ottimi hanno la punta fine quindi per fare questo tipo di lavoro sono perfetti solo che sono solo 3-6-10 colori cioè troppo pochi quindi ho ordinato su Amazon questi della Faber-Castell Faber-Castell non lo so questi sono 50 colori e sono le ho pagati 10 euro e le ho messi le ho messi qui avevo questo porta posate di legno che tra l'altro senza volerlo giuro che la cosa è casuale si abbina a un'altra cosa che adesso vi faccio vedere comunque qui ho messo i colori hanno la punta un po' più grossa sono un po' diversi però almeno ho più scelta perché già mi stava venendo un po' una crisi d'ansia a usare sempre gli stessi colori perché anche questo è un po' il concetto vi rilassa anche poter dare spazio un po' alla fantasia quando ho guardato un po' su Amazon ho visto quella confezione tipo di Faber-Castell o Faber-Castell non mi ricordo come si pronunci da 250 euro era una roba tipo infinita ma che figata deve essere per chi è fissato con queste cose ci va in nozze ma il problema qual è stato il problema è stato che mi sono messa a colorare il primo giorno tipo in fogliatissima ho finito il primo quadro la sera ero morta avevo il collo tipo distrutto che ovviamente soffrendo di cervicale la posizione non era proprio il massimo quindi cosa ho fatto qua il mio rilassante mio tense che avevo in casa per fortuna mi sono tirata un po' il collo con una lamaca per il collo e quindi questa è l'unica cosa che ho potuto fare ho detto devo trovare una soluzione torno su Amazon e praticamente ho trovato questo in realtà l'ho preso anche come portacomputer quando per esempio a letto è sicuramente più comodo è un po' pesantino e ve lo dico però è una figata è questo tavolino questo qui che ha questo leggio che si alza è molto robusto cioè è veramente una bella fattura mi piace un sacco l'ho pagato ho messo via l'ho pagato 33 euro tipo circa però è fatto veramente bene ah c'è anche un cassettino laterale però è abbastanza inutile però col fatto che ha quel ripiano a destra lì ci metto i colori e sull'eggio ci metto i libri da colorare e in tutto ciò ho preso anche questi che sono beh i classici mandala sono una cosa un po' diversa devo capire se se mi piacciono di più questi o quelli perché qua ci potete mettere un po' più di diestro si si fa per dire però ve lo so devo ancora capire è la prima volta che mi approccio però questi tre questi li ho presi in edicola li ho pagati 5 euro e 90 tutti e tre pochissimo quindi ho detto vabbè intanto li prendo così mi piace molto il fatto che ci siano dei delle frasi qua ma io mi sa che questi li ho visti identici anche su Amazon e la prima che mi è capitata sott'occhio è questa frase qua di James Joyce la vita è come un eco se non ti piace quello che ti rimanda devi cambiare il messaggio che invii questa è veramente una bellissima frase soprattutto se avete masticato un po' di legge d'attrazione grandissima verità prima che qualcuno mi dica ah ma fai lavorare i corrieri e cose del genere io non mi volevo dilungare su questo discorso allora non sono cose bene di prima necessità quello che ho ordinato o perlomeno dipende dal punto di vista io se non trovo qualcosa da fare di di concreto cioè in particolare ho visto che questa cosa mi sta aiutando do di matto cioè non posso uscire non si può uscire non sto leggendo insomma devo un po' alternare le cose e il discorso è questo come dicevo anche poco fa in chat con delle mie amiche i corrieri in questo momento sono una delle pochissime categorie che può lavorare e rispetto a tanti altri forse è una delle poche categorie che può lavorare in sicurezza sicuramente molto più di altri che devono avere un contatto con gli altri perché a livello di consegna soprattutto quelli di Amazon non c'è bisogno che firmate voi quindi firmano ve lo lasciano a distanza ve lo andate a prendere in più sappiate che soprattutto allora Amazon e GLS sicuro poi non so credo anche altre altre aziende altri altri corrieri non hanno proprio non sono diretti dipendenti di Amazon o di GLS sono delle cooperative quindi nel momento in cui gli calano le consegne calano le consegne ovviamente ci saranno anche queste cooperative fanno presto a dire ciao quindi saputo anche da altri corrieri se in questo momento non avessero consegne da fare sarebbero a casa quindi quel minimo di economia che si può far girare per come la vedo io è giusto che giri quindi questa è la mia opinione qualcuno potrebbe pensarla diversamente io la penso così adesso io sto sicuramente ho ridimensionato ho ridotto le mie spese anche in previsione del futuro però per queste cose ragazzi veramente vi dico questa cosa in questo momento mi sta tenendo un po' più tranquilla più rilassata più serena oppure se penso per esempio alle mamme come dicevo sempre alle mie amiche alle mamme che magari ordinano qualcosa per intrattenere i bambini anche questo potrebbe essere un intrattenimento per bambini in questo caso sono una bambina con la cervicale ma in qualche modo una bambina e piuttosto che andare in giro tanto vale meglio farsela arrivare a casa questo senza ombra di dubbio poi volevo aggiornare così al volo è la terza o quarta volta che lo uso sul correttore di pat al momento non mi sta convincendo sto provando ogni giorno una cosa diversa sotto con la crema di mac con quella di farsali senza nessuna delle due sto facendo varie prove al momento onestamente non mi ha entusiasmato per niente proprio l'altra cosa che vi volevo far vedere invece è la beauty box di questo mese di look fantastic a differenza delle altre volte non l'apro con voi perché me l'avevo già spoilerata ogni volta cercavo di saltare le storie delle persone ma ormai avevo visto tre quarti della box e ho detto vabbè ormai a questo punto la apro e ho fatto bene anche perché così vi dico anche un paio di cose allora questa è la beauty box vi preannuncio che a mio gusto personale è una delle più belle beauty box che ci siano state fino adesso cioè il mese up il mese down come è normale che sia sto mese secondo me è una delle più interessanti allora iniziamo con questo prodotto di Herbast sono le Chewable non so pronunciarlo Chewable Hair Vitamins 30 pastiglie sono 30 pastiglie masticabili per la crescita dei capelli quindi con queste fatte 15 giorni perché se ne prendono due al giorno e danno un supplemento di biotinna neacinna citazione morogramma no scherzo biotina salere e zinco e qualcos'altro allora io da un mese quasi due mesi in realtà sto prendendo queste queste sono quelle a forma di unicorno che questa è l'ultima confezione che mi rimane integra le altre due una l'ho finita e l'altra quasi quindi queste mi bastano per tre mesi di trattamento mentre questo qua per 15 giorni di trattamento ora io non so se con 15 giorni riuscite a vedere qualcosa perché io i primi risultati li ho visti dopo un mese il primo mese proprio di trattamento ho visto la mia crescita normale mentre in precedenza quando prendevo l'MSM per esempio era un pochino di più la mia crescita normale è un centimetro scarso al mese ma scarso 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 mentre dopo il primo mese di trattamento già ho notato una velocità una certa velocità e sono arrivata quasi a due centimetri ora vediamo se alla fine dei tre mesi aumenterà ancora di più a sto punto ne ho addirittura un altro mezzo mese quindi avrò tre mesi e mezzo di trattamento non so se ci sia una reale differenza fra questi due poi me li guardo meglio magari sul sito eventualmente ve lo scrivo nell'info box in questo momento ci vedo poco quindi devo andarla a vedere approfondire meglio poi continuo con questo prodotto che è anche quello che ho sulle labbra che è un rossetto liquido di Bella Pierre Kiss Proof Lip Cream colore si chiama e vabbè non ci vedo comunque colore molto carino ho fatto un trucco che ci stesse bene questo l'ho fatto tutto con la palette di Pat McGrath la Bronze Seduction la Mothership 5 se non sbaglio e quindi questa è la rossetta allora si stende veramente male cioè onestamente ci ho messo un po' per stenderlo perché volevo capire non capivo come la cosa che vi posso dire se ce l'avete e che magari siete abbonati e avete sto rossetto stendetelo senza mai fare così ma neanche per sbaglio perché vi si sposta il prodotto poi quando si asciuga va bene non è sinceramente il mio rossetto liquido preferito però tra l'altro vi dico ho appena pranzato quindi ce l'ho già su da che le sono sono le 3 da mezzogiorno quindi sono 12-3 ore e devo dire che si sta comportando bene le premesse erano pessime quindi ero già partito un po' un po' così però alla fine in realtà il risultato non mi dispiace poi cos'altro abbiamo abbiamo questo prodotto di Grow Gorgeous Repair Strengthening Hair and Scalp Mask quindi una maschera per lo scalpo questo marchio fa dei prodotti fighi interessanti per lo scalpo sono quasi tutti credo utilizzati allo scalpo quindi al cuore capelluto e non è facile trovare prodotti specifici per il cuore capelluto questo devo ancora capire la sua funzione io adesso sinceramente ho una cute in realtà ho dei capelli normali in questo momento né secchi né grassi e tantomeno la cute quindi questo me lo devo studiare un po' di più però è comunque un prodotto interessante secondo me questa box vale solo per questo che io quando questo è uno dei prodotti che non mi ero spoilerata quindi quando l'ho visto ho strabuzzato gli occhi è di Madara solo questo prodotto vale 35 sterline tipo una cosa del genere Time Miracle Wrinkle Resist Eye Cream contorno occhi cioè ciao allora già Madara è un marchio fighissimo che ha dei gran bei prodotti mi piace tantissimo la confezione tra l'altro io ho appena ordinato contorno occhi su consiglio di una mia amica me ne parlerò in seguito perché sto cercando qualcosa per il giorno comunque vabbè tanto anche quello di Estée Lauder lo sto finendo quindi ah mi è arrivata anche la box di Estée Lauder ma non ve lo faccio vedere perché è già sold out peccato perché era una gran bellissima una gran bella box però è sold out i prodotti poi ve li farò vedere anche perché credo se riesco vorrei registrare era già tre serie che rimando ma stasera vorrei registrare un video sul calcio di skincare eccetera quindi vediamo se riesco così ve li faccio anche vedere comunque questo contorno occhi interessantissimo che già da solo vale molto più della box poi c'è questo e qua proprio ci andiamo a nozze questo cleansing balm di Rodial bivenom si chiama è un tubettino casca a fagiolo visto che devo fare il video ho letto qualcosa ma non credo non mi sembra ad essere come struccante vero e proprio ma credo lo consideri proprio come un balsamo detergente però proprio uno studio meglio sicuramente ve lo includerò nel video a questo punto visto che ce l'ho poi c'è questa mini taglia di skin renewal booster di Elizabeth Arden che non ho ben è un booster sì ma da usare credo insieme a qualcosa si applica sì un booster quindi da usare prima del siero insieme al siero insomma un booster qualcosa di rinforzante cioè di coadiuvante come dire e poi questo prodotto che mi piace un sacco il profumo della linea mamma mia che droga della linea ritual of ayurveda di rituals ed è il lo shower oil come si chiama nurturing shower oil e non ho mai provato questo tipo di prodotto di rituals sto usando la mousse che mi fa impazzire e vediamo come mi trovo anche con questo mamma mia il profumo è fantastico e niente questa è la box di questo mese guardate se proprio devo dire l'unica cosa che mi ispira meno è questo perché per il resto secondo me ci sono prodotti sfiziosi sto mese marchi variegati abbastanza rispetto al solito e quindi niente se volete vi trovate ah c'è una promo in atto che adesso io non mi ricordo assolutamente comunque eventuali sconti attuali sulla box ve la lascio nell'info box e oggi il giorno in cui vedete questo video che è martedì ci sono anche delle flash sale delle vendite particolari con degli sconti particolari quindi vi lascio tutto nell'info box ah mi stavo dimenticando l'altro giorno vi avevo anticipato nel video di voi lo state vedendo ieri vabbè quello che l'avete visto ieri questo mascara di Laila il nome è molto ambiguo the longer the better black mascara allora è un mascara molto particolare perché adesso ve lo spiego proprio in parole in stampatello ve lo spieghi in stampatello ha una formula che polimerizza all'aria cioè all'aria si formano questi polimeri che si depositano sulle sciglia e ce l'ho oggi devo dire che più lo uso e più mi comincia a sconfinferare e quindi si depositano sulle sciglia allungando allungando il bello è che potete veramente stratificare quanto vi pare perché come se come se non si asciugasse o perlomeno quando voi andate a ripassare sopra sembra ancora maschera fresco sembra come se passaste ancora su maschera fresco la cosa che non mi è chiara perché avevo letto ma aveva detto anche la PR che quando voi la andate a rimettere dentro cioè il mascara dovrebbe rimanere fluido fino alla fine proprio per questa formula particolare però me lo voglio studiare ancora un po' mi sta sconfinferando in ogni caso al momento è sold out però io ho visto tipo l'avevo visto da Tigotala ormai settimane fa non so se ci sia ancora ed era tra l'altro costava 9,90 euro quindi un prezzo onesto però adesso ve le farò insomma me lo studio ma io ve la faccio sapere meglio adesso vado a rompere le palle a Zoe perché ve la voglio far vedere amore mio fatti vedere un po' facciamo un po' facciamo un po' di like con Zoe con il gatto che c'è stavi dormendo io con la maglietta nera adesso mi riempio tutta che c'è come l'hai presa tu questa quarantena Zoe sono 12 anni che vivo in quarantena beh stai sempre la compagnia ogni tanto le prendo le 5 minuti quelli di follia fatti vedere vado quanto sei buono fatti sentire sapete quante volte stiamo così me lo appiccico qua lei mi fa così si mette faccia a faccia non so se ho capito bene si che non si capisce che cosa abbia sentito vabbè e ok dai ogni tanto ve la faccio vedere niente con questo vi saluto ci vediamo prossimo video non so se sarà domani venerdì boh come mi gira faccio video ve li metto ciao ciao